Benvenuti a tutti a Frameworks, volevo presentarvi prima il ciclo di incontri, prima di presentare l'incontro che avverrà oggi. Frameworks nasce dall'iniziativa di giovani studenti del corso di laurea in arti visive e si tratta di un laboratorio che ha l'obiettivo di creare spazi di dibattito su tematiche che interessano il mondo dell'arte e dell'immagine. Quello che vi presenteremo oggi è il terzo incontro del ciclo percorsi d'immagine, discipline, teorie e pratiche che è un argomento, come si può intuire dal titolo, che potrebbe racchiudere varie discipline. Non a caso i primi due incontri abbiamo avuto il piacere di sentire il professore Claudio Musso dell'Accademia di Bergamo che ci ha parlato da sotto il punto di vista curatoriale e critico dell'arte urbana e il professore di antropologia domenici che ha parlato del caso della Madonna di Guadalupe e di come il potere di un'immagine sia così forte da influenzare l'immaginario collettivo. Tra l'altro i nostri incontri possono essere visti dal nostro canale YouTube, appunto Frameworks. Per concludere vorrei ringraziare la professoressa Lucia Corrain che ci ha appoggiato fin da subito il nostro progetto con entusiasmo ed è per essere stata un nostro punto di riferimento importante e poi la nostra coordinatrice di dipartimento del nostro corso di laurea, la professoressa Sonia Cavicchioli. Grazie mille e adesso darei la parola a Enrico Camprini che ci presenterà l'ospite di oggi. Grazie, grazie Vito e buonasera di nuovo a tutte e tutti. Io presenterei subito il relatore per poi fare, spendere due o tre parole per ridefinire ancora di più il contesto di quello che faremo oggi, di quello che abbiamo fatto finora. Allora oggi io sono molto contento che con noi ci sia Luca Bertolo che è pittore e insegna qualmente all'Accademia delle Belle Arti di Firenze ma che come saprete ha insegnato per tanto tempo all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, ha esposto in diverse sedi pubbliche e private. Mi si sente? Benissimo, i microfoni per cortisire qualcuno, non sento che... Dunque, sì, diverse sedi pubbliche e private, cito qualche mostra più recente, quella più recente che per noi abbiamo potuto vedere, forse, sua per me l'ultima del vivo, visto che siamo in una condizione di forzato distanziamento, è stata sempre a Bologna, 2020, le realtà ordinarie presso Palazzo dei Toschi durante l'ultima edizione di Arte Fiera, ma ha esposto precedentemente in Fondazione Prada, al Mart di Rovereto, alla Gnam di Roma, alla Gnam di Torino e al Centropeccio di Prato, oltre ovviamente a Spazio A di Pistoia, Arcade di Londra, Mark Fox di Los Angeles. Oltre all'attività pittorica si dedica anche alla scrittura critica, molti dei suoi testi sono stati pubblicati su FlashArt, 00, ATP Diary e nell'anno 2018, se non sbaglio, ha pubblicato per Quadlibet il suo primo libro che raccoglie molti scritti, editi e inediti, intitolato I baci del bambino scritti sull'arte e sugli artisti, appunto Quadlibet 2018. Di cosa ci occuperemo oggi? Intanto vorrei partire da un aspetto banale, ma che ci aiuta, nel senso che il nostro seminario si intitola Percorsi di Immagini, Discipline, Teorie e Pratiche. Oggi siamo finalmente al punto 3 del sottotitolo, ci occupiamo di pratiche, però vedremo come queste pratiche ci aprono porte molto importanti, a mio modo di vedere, per poi tornare ai nostri passi dal punto di vista teorico, nel senso che siamo storici dell'arte, studenti, di discipline che sono teoriche, ma osservando la serie di immagini, di opere che Bertolo oggi ci porterà in visione, potremmo veramente aprirci porte importanti dal punto di vista teorico. Intanto vorrei dire che il lavoro di Bertolo, che viene, come dire, in questa relazione intitolato, messo sotto questa categoria del quadro come dispositivo, ci porta a capire ancora una volta che la pittura, specialmente in un contesto come quello attuale, in cui siamo soverchiati da flussi di immagini sempre più rapidi, sempre più forti, e la cui creazione differisce su molti aspetti da una canonica e tradizionale modo di concepire l'immagine, pensiamo ai nuovi media, al modo in cui l'immagine si sviluppi, si possa creare e costruire. Tuttavia tornare, o meglio, non tornare perché siamo sempre stati lì nel modo di vedere la pittura, ci porta a capire come l'immagine sia un paradosso di per sé, un paradosso concreto, un paradosso metaforico, e il quadro che accoglie l'immagine, l'immagine dipinta, dirà Bertolo, non è di per sé un'immagine, è già un paradosso di principio. Il quadro ci porta a capire, dal punto di vista teorico, tanti aspetti da cui, primo tra tutti la dimensione materiale e concreta, da cui il concetto di immagine non può scindersi, pena non comprenderlo in fondo. È chiaro che nel nostro seminario un cappello teorico così grande non è esauribile, ce ne vorrebbero decine di seminari, però abbiamo scelto di muoverci puntata, tre due volte per puntata, disciplina per disciplina, per arrivare anche a un discorso legato all'arte del suo farsi. Ora, note tecniche, come ci possiamo comportare oggi? È una relazione seminariale come le altre, tuttavia, diciamo, aggredita, auspicata, a una partecipazione diversa rispetto alle lezioni che abbiamo viste in precedenza. Vedremo immagini, le commenteremo, ma l'intervento di colleghi, di frameworks e pubblico in generale non è affatto in questo caso sconsigliabile, ma sarà molto apprezzato perché è un discorso sempre nel suo farsi, diciamo così. Ciò non toglie che certo, nel frattempo, mentre si procede, è meglio tenere spenti i microfoni, come diceva Vito, per ragioni puramente tecniche, ma oggi vorremmo fare anche un discorso di questo genere. Ora, direi che posso lasciare subito parola a campo a Luca, l'ho ringraziato tantissimo ancora, perché finalmente dopo quasi un anno di gestazione siamo riusciti anche in questa dimensione purtroppo distante e non comparabile a quella reale, ma ci va bene, siamo molto contenti. Quindi grazie e grazie a voi. Sì, allora, intanto all'inizio è tutto ringraziarsi reciprocamente, io sarò bravissimo, però ci tengo a dire che mi ha fatto piacere l'invito, non succede spesso che ci siano gruppi o collettivi di studenti che organizzano delle cose in generale e che le organizzano così seriamente come l'avete fatto voi e sono stato contento che per qualunque motivo insomma siete arrivati al mio nome, abbiate pensato che io potessi dare un contributo interessante anche perché sono comunque fin dall'inizio stato messo in una lista di autorevoli colleghi, davvero, professori, studiosi di immagini, di appunto antropologia, dal punto di vista antropologico, professore di estetica e così via. L'ho detto prima ma ci tengo a dirlo anche adesso, visto che tra i presenti anche se, ma giusto per rendere un pochino meno fredda e così è anche un po' inquietante per me, sempre questo di come quando faccio delle lezioni, ultimamente insomma parlare guardando uno schema di un computer non è proprio esattamente il massimo. Io però ho visto un po' di nomi di ex studenti, studentesse, mi fa molto piacere vedere che siano qui in questo momento, ho visto anche i nomi di qualche amico e amica e collega e quindi insomma sono molto contento. Poi spero che ci sia anche modo di interloquire. Sì, quello che ha detto Enrico è giusto, sono stato io stesso che ho detto che abbiamo scelto insieme un po' di immagini o almeno una tipologia di immagini che lo stesso Enrico quando ci siamo incontrati un paio di volte, abbiamo parlato, poteva essere utile a diciamo creare un minimo di percorso, ma Enrico ha anche avuto a che fare subito con la resistenza che io ho posto e che pongo sempre a quello di creare un discorso soprattutto quando a parlare è un artista e parla del suo lavoro. Io in particolare ho una difficoltà, più passa il tempo, più invecchio e più mi mette in imbarazzo quello di dover parlare del mio lavoro o meglio. Credo che le informazioni che un artista può dare sul suo lavoro siano spesso molto interessanti, anche divertenti, anche curiose, possono dare delle indicazioni, ma il tranello diciamo che è sempre dietro a ogni angolo è quello di creare anche in maniera inconsapevole una specie di piccolo discorso standard, una specie di consigli per gli acquisti, una specie di vademecum premasticato su come rapportarsi al proprio lavoro. Ecco, questa è la cosa che più temo perché credo che sia un po' la morte dell'arte, che sia la morte della dimensione critica interpretativa che invece è l'unico humus dentro il quale l'arte può avere un suo senso autonomo. Fatta questa premessa, che appunto è tutta fuorché una premessa accademica perché mi trovo in questo imbarazzo e quindi è giusto che inizi in pieno imbarazzo avendovi fatto presente questo sentimento. Io ho scelto, quindi partirei a far vedere delle immagini senza avere minimamente un discorso diciamo coerente che vorrò seguire. Mi torna in mente una conferenza che un amico che è anche qui presente, ho visto, mi ha suggerito tempo fa, di Talar, un pittore, un collega israeliano danese che stimo da tantissimi anni. In questa conferenza appunto inizia dicendo esattamente un po' quello che sento io, no? Per cui dice un artista non dovrebbe più di tanto parlare del proprio lavoro, dovrebbe farlo e poi dopo... Però insomma cercherò di farmi pubblico io stesso e allora io intanto provo a condividere lo schermo con voi su... Allora io partirei da uno delle tematiche uscite nella conversazione con Enrico inizialmente e cioè che l'ha già in qualche modo già introdotta anche lui e cioè la questione diciamo per me annosa, affascinante e mai esauribile, per fortuna, se no l'hai già smesso di... probabilmente già da tempo di dipingere, della doppia natura dell'immagine dipinta. Io mi riferirò principalmente all'immagine dipinta perché è quello che faccio principalmente ma questo discorso potrebbe valere per vari tipi di immagini. Dal mio punto di vista ed è anche forse il motivo per cui piano piano mi sono convinto che come artista giovane quando ho iniziato e che ho iniziato facendo cose abbastanza diverse. Il mio interesse diventava sempre più esclusivo rispetto alla pittura ha a che vedere con il fatto che l'immagine dipinta rappresenta secondo me al meglio questa... appunto parlavo di una doppia natura, di una doppia... quasi di una doppia identità, di una doppia presenza. C'è un'immagine che è quella che potremmo... adesso guardando questo quadro che sto facendo vedere, che ha a che fare con quello che io potrei raccontare a qualcuno che non la sta guardando, no? Potrei dire ma si vede una specie di macchia, sembra qualcosa di sfocato, poi ci sono dei segni un po' grezzi dipinti col colore rosso e che sembrano fare... diciamo su quello che era una macchia sotto sembrano darle un significato di volto e quindi ci sono due occhi, una strana bocca con forse due baffi, insomma un segno che che sembra avere a che fare con le fattezze di un volto. Questa è l'immagine, no? Che se io ritagliassi, voi immaginate di fare un'operazione mentale, di ritagliare il bordo del quadro che è rappresentato in questa fotografia, rappresenta appunto una di queste polarità. Io quando fotografo i quadri tendo sempre invece a farvi vedere con il muro dietro o comunque lo sfondo su cui stanno quando vengono fotografati, proprio per ricordare quantomeno, sebbene in fotografia appunto si perda l'esperienza, l'esperienza di essere davanti a un oggetto, e questa è la seconda natura dell'immagine dipinta e che è quello che più comunemente chiamiamo il quadro, il quadro come oggetto fisico che ha una sua tridimensionalità, o ha varie sue texture fatte dalla tela, fatte dal legno che lo sostiene, fatte dal colore che poi è stato steso sopra questa tela e così via. Ecco, raccontare questa cosa così semplice, così banale, spesso all'inizio quando lo faccio con studenti o con altre persone, sembra sempre che richieda un supplemento di spiegazione, cioè perché ci stai raccontando quello che è ovvio che non c'è bisogno di spiegare, no? È ovvio ma è fondamentale, è fondamentale invece tenerlo presente perché l'immagine non coincide con l'oggetto quadro. Com'è che non coincide? Non coincide da tanti punti di vista, io me ne sono reso conto tutto quello che vi sto dicendo, a che vedere con riflessioni che io ho fatto nel corso degli anni, evidentemente ho avuto spunti leggendo, guardando ovviamente soprattutto opere di altri artisti, leggendo, ma più di tutto lavorando nel mio studio, avendo a che fare continuamente con questi piccoli o grandi enigmi che sono i quadri nel momento in cui uno li sta facendo o, verrebbe da dire, si stanno facendo. Allora cosa succede? Succede che a meno che uno non abbia preventivamente già perfettamente chiaro in mente, ed è quello che spesso il pubblico generico si immagina di un pittore, cioè che abbia un'immagine e che questa immagine gli venga metafisicamente dalle sfere i perurani che magari mente dorme, si sveglia a un'immagine fissa in testa, e l'attività della pittura in senso stretto, cioè quella pratica che accennava Enrico, che è parola fondamentale, consiste unicamente nella resa tecnica di questa immagine mentale che uno avrebbe già. Quest'immagine può essere appunto mentale perché uno se l'è sognata, o perché la vista si è stampata nella sua memoria, o perché l'ha vista a sua volta riprodotta in una fotografia, e così via, ci sono tanti modi. Ecco, io credo che tutti i grandi pittori, meno, quantomeno della storia che io più conosco, che è quella della pittura occidentale, chiamiamola così, quantomeno in buona parte europea, e permettetemi, non mi metto nel canone dei grandi pittori, ma aggiungo, e anche nel mio piccolo caso, non sia così. Cioè, il momento della dimensione della pratica è un luogo che ha qualche cosa di magico, proprio perché produce lui stesso l'immagine che poi dopo, prima o poi, sarà completa, l'artista decide anche l'immagine definitiva. Questo processo si sviluppa nel tempo, evidentemente, ma non è un tempo che in qualche modo si potrebbe comprimere, perché ritorniamo all'ipotesi iniziale di un'immagine che già esiste e che deve essere solo trasferita, no? Sulla tela, o sulla carta, o su quello che volete. Beh, in questo primo caso, il tempo sarebbe solo una questione banale di più o meno lentezza, più o meno bravura, più o meno velocità dell'esecutore. Ecco, invece, dal mio punto di vista, il tempo della creazione è un tempo particolarmente denso, potremmo dire così. Denso da tutti i punti di vista. Denso perché che è un l'equivalente di un cammino parzialmente al buio rispetto all'artista che sta creando qualche cosa. Adesso parlerò di me, perché non voglio mettere in bocca parole ad altri, quindi scusate, si continuerò a parlare di me stesso, ma quantomeno so di dire cose per esperienza. quindi si parte da un si parte da un certamente da un'idea, da un impulso, da una sensazione, da una serie di sensazioni che possono essere le più contraddittorie tra di loro e spessissimo il quadro, questa è nella mia esperienza personale, il quadro finale ha poco, a volte addirittura nulla a che fare con quello che è stato l'innesco del quadro. Cosa succede tra l'inizio e la fine? Succede che avviene un vero e proprio dialogo e come ogni dialogo che si rispetti inizia da un punto e finisce in un altro e non si può sapere all'inizio dove finirà, se no non è un vero dialogo, tipicamente questo avviene anche tra due persone. Quando uno dei due sa già dove vuole arrivare e magari ce la fa anche a condurre quel dialogo fino a quel punto, beh, non è stato un vero dialogo e difficilmente nasce qualche cosa, anzi direi tendenzialmente è impossibile che nasca qualcosa di veramente sorprendente per la persona stessa che l'ha voluto condurre fino a quel punto. Beh, la sto facendo un po' lunga ma per tornare alla doppia anima dell'immagine dipinta che credo sia il contributo che in questo ciclo di conferenze se un pittore possa dare, beh, posso dire che quasi tutto quello che ho fatto quantomeno negli ultimi quindici anni anche prima probabilmente ma con meno consapevolezza, con meno chiarezza ha avuto a che fare con questa scoperta, con questa continua chiamiamola così verifica anche se la parola verifica chiama in campo tutta una serie di associazioni con una dimensione scientifica che invece vorrei lasciare da parte in questo momento. Però la parola verifica mi piace perché la costruzione di un quadro per come la vivo io tutte le volte quando sono in studio è una continua verifica di piccole intuizioni, di piccoli passetti che appunto possono condurre da una parte oppure dall'altra e un continuo avanti e indietro avanti e indietro fino a che si trova una sorta di equilibrio che allo stesso tempo è sorprendente. Allora stavo dicendo questi sono lavori del 2017 una serie che ho chiamato testimoni in questo caso faccio alcuni esempi proprio parlando della dimensione tecnica proprio dell'oggetto quadro in questo caso cosa succedeva per esempio succedeva che semplicemente ho avuto l'esperienza che hanno avuto in tanti uscendo dalla vasca con il guardandomi nello specchio appannato con le goccioline di acqua che cadevano mi sono ancora una volta stupito di fronte a un'immagine che poi tipicamente quella dello specchio è una delle grandi fonti di immagini di fascinazione da sempre che ha una specie di doppio irraggiungibile della pittura che però è un doppio particolarmente smaterializzante quello dello specchio mentre il pittore prima o poi tende a voler rendere materico diciamo punta alla presenza fisica sulla tela di un'immagine e tuttavia in quel caso lì sono rimasto affascinato e ho provato in studio a lavorare su questa idea di immagine sfocata e allo stesso tempo sull'idea di goccia che cadendo si porta via il vapore e mette a fuoco come se ci fosse un doppio registro di immagini a fuoco e fuori fuoco ecco io ho dovuto per costruire questi quadri facendo un po' di esperimenti arrivare al paradosso per cui l'immagine sotto in realtà quella che a noi sembra offuscata da una materia vaporosa in realtà non è per nulla a fuoco diciamo così è un'immagine già sfocata e che poi dopo viene ricoperta da una velatura e le gocci in questo caso di olio ma soprattutto di trementina fatte cadere si portano via questo secondo strato lasciando a parire il primo e quindi simulando in qualche modo quell'effetto ma attraverso un procedimento completamente diverso ovviamente non c'è nessuno specchio non c'è nessuna immagine non c'è nessuno di fronte non c'è un'immagine veramente a fuoco ma diciamo l'effetto è di quel tipo lì ecco anche qui di me no pensavo di scorrere se vuoi scorrere sì allora andiamo avanti semmai dopo dico ancora due cose ecco qui qua parlando con Enrico un'altra questione che ha a che fare con una buona parte del mio lavoro appunto da quegli anni dal 2000 un po' prima dal 2002 forse dal 2001 i primissimi quadri hanno a che fare con lo spazio anche qua scissione diciamo una specie di schizofrenia tra immagine e supporto tra immagine e oggetto quadro all'inizio sono partito in maniera un po' più letterale e quindi ho dovuto costruirmi una specie di passepartout interno alla tela in cui simulavo la cioè simulavo costruivo di fatto un'immagine centrata come nel caso di una fotografia in questo caso è stato uno dei pochi momenti in cui ho lavorato a partire da fotografie in quegli anni mi chiedevo cosa volesse dire tradurre in pittura una fotografia cioè cosa si guadagnava e cosa si perdeva tra due mezzi che hanno sempre navigato diciamo guardandosi a vista fin dalla nascita della fotografia e tante volte tuttora tutt'oggi questo lo vedo parlando spesso specialmente con gli studenti all'inizio non è affatto chiaro in cosa consiste l'autonomia di ognuno dei due mezzi in questo caso io me lo chiedevo in maniera molto attiva molto fattiva ma non è questo il punto in questo momento di cui mi interessa parlare oggi non è una questione pittura fotografia mi interessa di più parlare proprio di questo strano spazio che potremmo dire uno spazio un po' ibrido uno spazio anfibio potremmo dire quello che ho chiamato passepartout cioè questa parte bianca che sta intorno alla quella che noi riconosciamo come immagine in cui ho messo delle macchioline di colore che ricordano da vicino gli stessi colori che sono dentro ecco in quell'epoca io la domanda che più mi affascinava riguardava lo statuto della macchia chiamiamola così cioè nel momento in cui io con una pennellata metto una macchia di colore cosa succede? questa macchia se è all'interno se è sistemata all'interno di un gruppo di macchie o meglio se è dentro a un sistema di macchie che noi riconosciamo come raffigurazione di qualche cosa quella macchia in qualche modo tende a sparire come tale e a diventare una parte integrante di un racconto visivo ecco se questa stessa macchia io la allontano anche di pochi centimetri da quel sistema visivo che noi tendiamo a chiamare immagine rimane una macchia ecco questa cosa la trovavo particolarmente affascinante anche irritante anche scurrile se volete anche divertente anche ridicola un po' goffa ecco la questione che si potrebbe partire a discutere di questa di questa questione proprio dal termine immagine ancora una volta perché viene naturale dire beh l'immagine centrale e poi c'è qualcos'altro in realtà vedete che a questo punto ci troviamo con le spalle al muro e abbiamo già senza nemmeno averci pensato creato una specie di sottodefinizione esiste il quadro che sostiene qualche cosa che non sappiamo esattamente definire sono delle macchie una cosa che ho chiamato passepartout cioè della tela bianca e poi al suo interno una immagine in realtà se volete se pigliate se ritagliate tutto il rettangolo del quadro mentalmente ci togliete la parete dietro beh quello è l'immagine del quadro quindi di nuovo c'è un'immagine che però sembra contenere un'immagine più immagine dell'altra ecco questa cosa è abbastanza è abbastanza curiosa come se le macchie qua sotto non fossero immagine di qualcosa ma fossero una specie di fossero io purtroppo diciamo non gestisco benissimo il linguaggio filosofico però mi verrebbe da dire che lo statuto ontologico di queste macchie sembrerebbe precedere quello delle macchie organizzate nel sistema dell'immagine di queste persone perché c'è un tema per me che è importante insomma come stavi poco fa anticipando ecco qui per me si apre un bivio guardando questo quadro e anche i quadri che contengono questa appendice di macchie possiamo chiamarla così un bivio che ci porta a teoricamente definire per quanto sia indefinibile l'immagine di per sé ma definire l'immagine sotto due aspetti o queste macchie sono visivamente intese una traccia un indice di ciò che sta dentro l'immagine ma di ciò che fuori è qualcos'altro oppure o forse anche sono in realtà un bivio che si viene a incrociare l'immagine è una soglia dunque l'immagine è una soglia l'immagine è una soglia determinata ovviamente in maniera arbitraria all'interno della quale la materia pittorica che è quello di cui veramente il pittore si occupa come finora hai detto in cui la materia pittorica assume una forma tale che l'immagine si materializzi questo ci fa tornare però a ciò che è stato detto all'inizio che comunque l'immagine dipinta vera immagine non è per le ragioni prima così come l'immagine mentale che è un'immagine senza medium o meglio medium ce l'ha più facile il corpo però ecco per me è importante e ti ho fermato per questo perché il quadro precedente e questa ha maggior ragione ci dimostra in maniera molto letterale quanto parlare di immagine e parlare di lettura contemporaneamente sia un discorso estremamente complesso un discorso complesso e che ci porta per forza di cose a prendere vie che si biforcano si incrociano e si biforcano di nuovo e tornando all'introduzione che ho fatto prima parlare di pittura a maggior ragione adesso in un momento in cui l'immagine assume forme che inizialmente la pittura minimamente poteva immaginare rimane estremamente importante perché è un esercizio visivo e concettuale per capire per lavorare come citerei su concetti di differenza iconica differenza trasfondo e primo piano a differenza tra la materia che stanno dentro e stanno fuori da un oggetto e quindi lo determinano determinano l'immagine che vediamo ma l'immagine in sé è tutto questo e forse anche nessuna di queste cose grazie sì a me capita continuamente adesso parlavo stavo conoscendo sempre mediati da queste conferenze online nuovi studenti all'Accademia di Firenze tipicamente facendomi vedere i loro portfogli escono fuori frase continuamente del tipo quando io chiedo questo che cos'è ah questo prof è il questo è il coniglietto di Dürer che ho rifatto ah il coniglietto di Dürer dico ma cos'è che stiamo guardando in questo momento è il coniglietto di Dürer dico ma guardi non credo che sia forse cos'è questa ah no no beh certo è ovvio è il mio disegno no dico ma io sto guardando il tuo disegno sì certo cosa sto guardando dico no a me sembra di stare guardando forse una brutta fotografia che hai fatto di un tuo disegno in più questa fotografia la sto vedendo in forma di pixel sul mio sul mio schermo ecco questa cosa che sembra una grande pedanteria è invece l'ABC per iniziare a ragionare sulle immagini tanto più se uno si sta cominciando un percorso di formazione di arti visive è proprio sarebbe come non cominciare a parlare della seconda legge della termodinamica se uno sta studiando fisica ecco all'ABC perché perché di nuovo siamo abituati continuamente oggi più che mai ed è per questo che io sostengo dal punto di vista dei pittori cioè ci sono mille motivazioni personali esistenziali ovviamente ma dal punto di vista diciamo di una validità culturale oggi penso che la pittura possa svolgere un ruolo importantissimo di continuo allenamento e continua provocazione rispetto ai cliché visivi di cui facciamo uso costantemente e che dal mio punto di vista stanno riducendo parecchio la nostra soglia critica rispetto al visivo questo flusso appunto continuo costante di immagini per lo più vissute direi che oggi in sta grande maggioranza in forma di pixel luminosi su degli schermi fino a poco fa la maggior parte di queste immagini erano stampate su carta adesso credo che ormai la statistica si sia rovesciata ma in ogni caso hanno a che fare con immagini che sono per lo più fotografie e quindi rielaborazioni di altre cose queste altre cose sono tante altre no gli stessi quadri sono fotografati ma rappresentano una piccola parte infima parte a parte per i pittori stessi che guardano molte foto di quadri insomma per la maggior parte delle persone non è così però ecco guardare un quadro quando uno guarda dal vivo quindi non quello che stiamo facendo noi adesso stiamo facendo uno sforzo di nuovo di astrazione stiamo facendo finta di guardare un quadro dal vivo beh a questa cosa di notevole che si è davanti a un meccanismo visivo che almeno dal mio punto di vista ed è quello che io spero di fare con i quadri che funzionano tra quelli che faccio ci restituisce una consapevolezza spesso in maniera bizzara in maniera provocatoria in maniera emotivamente carica questa è l'altra cosa fondamentale perché non siamo qui a fare degli esperimenti in laboratorio sui giochi visivi sul contrasto simultaneo sul fatto che partono sempre da delle storie io però tendo a non soffermarmi più di tanto tanto meno in un ciclo di conferenze come questo qua che mi sembrava potesse essere più interessante la sua dimensione tecnica ma qui appunto potrei raccontare che queste immagini diciamo l'immagine che è ispirato questo quadro per meglio dire una fotografia in bianco e nero in cui nessuno ci potrebbe mai arrivare un gruppo di pensate un po' di surrealisti inglesi io non sapevo all'epoca nemmeno che ci fossero stati surrealisti in Inghilterra alla fine degli anni 30 stavano facendo una manifestazione contro l'entrata in guerra ecco quindi è ovvio che dietro un quadro ci stanno motivazioni ben più profonde ben più nascoste e che spesso hanno a che fare con la vita di chi li fa però adesso noi ci stiamo limitando alla parte se volete altrettanto affascinante ma un po' più superficiale che quella del meccanismo io andrei avanti così magari vengono fuori delle altre vediamo qualcos'altro ecco questo mi avevo dimenticato l'avevo messo no no torna pure indietro questo no è tornato via indietro a che immagine? ah questo era del cavallo quello che hai fatto poco fa ecco qua se ti fermi qua questa l'ho messa perché tantissimo che non la rivedevo l'ho fatta vedere poche volte e per me è un po' un un quadro seminale 2001-2002 è stato uno dei primissimi ci ho messo un tempo infinito a fare questo quadro mille ripensamenti e e mi piace per tanti motivi ma quantomeno di nuovo lasciando perdere per ora qualsiasi forma di interpretazione che lascio volentieri a voi ecco vedete le macchie lì sotto sono state forse la prima il primo avvisaglia di questo tentativo di mettere qualche cosa che avesse a che fare con il materiale stesso che non è direttamente all'epoca non è ancora il colore puro diciamo del tubetto ma è già un colore impastato un colore che sta formandosi sta per diventare potenzialmente immagine o diciamo ingrediente per un'immagine e che accumula in basso come per seguendo una sorta di gravità che porta in basso tra l'altro negli stessi anni come ho citato Talar proprio negli stessi anni io l'ho scoperto pochi anni dopo lui un pari di anni dopo sta anche lui con una maniera molto diversa producendo dei quadri molto più materici in cui anche lui su una fascia bassa stava accumulando delle macchie di colore che apparentemente non servono a definire l'immagine principale andiamo pure avanti ok questi sono invece sono molto più recenti ne ho messi un paio di questo gruppo di quadri che di nuovo mettono mettono in primo piano diciamo la multi come posso chiamare multi layer la varietà di livelli forse livelli è una stratificazione dell'immagine sì una stratificazione diciamo così livelli arriva sicuramente dall'essico di photoshop ma ormai ce l'abbiamo dentro nella testa questa è come se ci fossero potrei dirla così forse in maniera un pochino più poetica di photoshop è come se l'immagine dipinta avesse a che fare con una infinita profondità che però avviene tutta nella superficie è come se continuassi a scavare questo me ne rendo conto col senno di poi con vari cicli gruppi di immagini in alcuni casi è più palese in altri casi è meno evidente è come se io continuassi a scavare ma non in profondità perché evidentemente il quadro non è una scultura e quindi non ha un tutto non è nemmeno un vero per quanto uno possa spremere dal tubetto non arriverà mai nemmeno ad essere un un rilievo un basso rilievo no? rimane qualcosa che assomiglia molto di più a una bidimensionalità però in questo caso come in altri molti altri dei miei quadri il punto diciamo che mi affascina è il motivo per cui io li dipingo per vedere cosa succede cosa succede all'immagine ha a che vedere con questo dislocamento della superficie cioè dove sta la superficie no? allora verrebbe da dire che se io mi concentro sull'immagine che rappresenta evidentemente un tetto con un comignolo e delle montagne in in prospettiva un'immagine un po' sfocata allora mi verrebbe da dire che quello è il luogo della classicamente era la prospettiva era lo sfondamento diciamo l'immagine che finge la tridimensionalità poi riconosco delle goccioline queste goccioline che appunto si si fermano sui sui vetri delle finestre di cui noi tutti abbiamo fatto esperienza mille volte e la gocciolina ci riporta fa un passo ci riporta verso noi stessi perché vuol dire che tra noi e quella prospettiva simulata c'è un uno schermo c'è uno schermo per quanto trasparente ma la la presenza la gocciolina lo mette in evidenza quindi dice attenzione attenzione c'è una prima superficie la superficie di un vetro tu non vedi il vetro ma la gocciolina lo mette in rilievo ora per me tutti questi passaggi sono tutte metafore anche del nostro essere nel mondo ovviamente cioè a me non interessa più di tanto del vetro delle goccioline della prospettiva però è un questo continuamente mettere a fuoco o spostarsi avanti indietro del punto di vista è una perfetta metafora del mettere del dare un luogo alla propria identità proprio essere dove continuamente chiedermi ma io dove sono il vetro a sua volta può essere il luogo della no se pensate alla la lente che noi abbiamo sull'occhio l'occhio non può vedere se stesso nel momento in cui l'occhio vede se stesso per esempio se ci viene qualche cosa una fogliolina un piccolo oggettino che si si ferma nell'occhio di colpo si stravolge come se questa improvviso irrompere della consapevolezza di avere un occhio mettesse a repentaglio la visione stessa c'è questo paradosso ecco la pittura continuamente racconta almeno dal mio punto di vista una delle cose più affascinanti è che la pittura continuamente riporta l'attenzione sul vedere e il vedere a sua volta per me è una perfetta metafora della consapevolezza più in generale del senso più generale dello stare al mondo ecco ma continuo sempre su questo quadro faccio un passo ancora in avanti allora siamo arrivati alle goccioline che io riconosco come goccioline d'acqua benissimo allora quella deve essere la superficie se noi fossimo davanti al quadro io metterei proprio il dito sul quadro e direi benissimo allora la superficie le goccioline e la superficie dimmi ok mi sentite se io non sento più Enrico qualcuno mi dice se mi sentite sempre la sentiamo ah ok benissimo ok quindi siamo arrivati a una superficie ma subito la banda sotto Enrico hai mandato avanti un'immagine se puoi tornare indietro ecco benissimo nella banda sotto non so se riuscite a vedere ma queste macchie alcune di queste macchie sono anche a rilievo tipo il bianco sulla parte sinistra sempre in basso o il blu o il marrone o l'ocera quindi se uno se voi foste davanti a questo quadro percepireste molto bene la matericità di questi di questi grumi di colore beh allora questo è di nuovo un passaggio ancora più vicino a noi inteso come corpo quindi l'osservatore non è più solamente un occhio senza un corpo l'osservatore io che guardo sono un occhio attaccato a un corpo il corpo sta in una posizione il corpo sta in una posizione di fronte a questo quadro allora vedete che torniamo no? siamo partiti da un'immagine in questo caso e siamo arrivati a un corpo a una posizione ci stiamo posizionando nello spazio anche grazie al quadro che stiamo guardando questo ovviamente non è né la prima volta né l'unico modo per creare questo rapporto tra due corpi tra il corpo del quadro in questo caso e il corpo dell'osservatore quando Leonardo da Vinci per citare adesso la prima cosa che mi viene in mente dipinge l'ultima cena a Santa Maria delle Grazie a Milano dipinge in modo che ci sia un posto privilegiato un luogo privilegiato in cui lo spettatore potrebbe porsi per riuscire a vedere perché l'effetto del prospettico del suo affresco funzioni al meglio e quindi il quadro stesso in questo caso non è un quadro è un affresco ma insomma l'immagine dipinta tante volte e in particolare a partire dal rinascimento ha una specie di feedback sull'osservatore come se gli imponesse il luogo ideale per essere guardato non è troppo vicino non è troppo lontano qualunque sia questo luogo la cosa che a me importa in questo momento per il discorso che sto facendo è che il quadro stesso quindi immagine ma anche fisicità corpo impone o quantomeno propone o si mette in relazione con il corpo dell'osservatore ecco questa è un'altra cosa per me molto molto importante che è meno evidente nel momento in cui uno guarda un quadro entra in una galleria guarda dei quadri racconta diciamo ho visto un quadro rosso molto bello uno astratto uno giallo un altro c'erano delle goccioline che sembravano vere bla 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 questi sono diciamo le primi effetti che sono importanti ma c'è qualche cosa che magari è avvenuto e di cui non si è avuto perfetta consapevolezza ma questo gioco sulla distanza no? su questo collocamento della superficie e collocamento del corpo dell'osservatore per me è molto è molto affascinante poi Enrico fare scorrere le immagini ecco questo è un altro esempio più recente ma il meccanismo è più o meno lo stesso ecco ecco qui se posso vorrei aggiungere un po' perché hai dato ovviamente sapendo che stavamo arrivando a questo punto gli strumenti per essere qui nel senso che hai iniziato poco fa sicuramente in maniera non come dire accessoria in senso buono ma utilizzare una terminologia che ci porta man mano a parlare di immagini e di tradizione storico-artistica occidentale tradizione del quadro anche in questi termini quelli che vediamo una madonna una madonna in cui compare comunque quella strategia di di porre macchia sul perimetro di cui abbiamo parlato prima per casi molto molto diversi a livello ovviamente iconografico non dal punto di vista del corpo dell'immagine quello che ci interessa di più come abbiamo detto ecco un passaggio del tuo lavoro che a me interessa particolarmente perché dal punto di vista visivo quantomeno di riconoscimento immediato ci porta esempi che siano totalmente diversi rispetto ad altri a quelli che abbiamo visto ora ma che fanno parte di un unico vero filone mi riferisco al fatto che molte opere a partire da questa ma anche quelle che vedremo ci sono dei riferimenti evidenti alla storia dell'arte occidentale anche alla tradizione della pittura sacra laddove io per sacro però non intendo semplicemente una madonna una pittura di ordine tipo religioso o che si rifà a quel genere di rappresentazione ma intendo qualcosa di più per certi versi cioè un genere di pittura che guarda la memoria storico-artistica nella misura in cui essa prevede in un certo senso l'apparizione di un'immagine piena perfetta che parli da sé dico molto brutalmente ecco questo lo immagino molto anche nel ricordando il quadro che uno vede delle opere che erano esposte a Palazzo dei Toschi per la scorsa artefiera uno dei terzi paesaggi che il procedimento è totalmente particolare vedremo dopo però fa aprire una cortina su un paesaggio e sappiamo che le cortine sono un elemento che ricorre nella storia dell'arte specialmente antica e sacra occidentale che però tu ovviamente prendi come e posso dirlo magari mi sbaglio come pretesto figurativo e materiale per entrare ancora di più in un discorso concreto sulla materia pittonica qui mi sembra che ci siano un po' di elementi su cui discutere sì qua ovviamente la sterzata è enorme io stesso adesso sono sobbalzato vedendo questa questa madonna madonna con bambina madonna con bambina che giusto mi fa piacere raccontare queste cose perché non è nata per essere una madonna con bambina non era nata per essere nulla all'inizio poi è diventata una madonna e poi questo bambino è diventato una bambina e ad un certo punto mi sono chiesto come mai non non fosse ancora venuto in mente a nessuno di rappresentare una donna con una bambina senza per questo volere risultare sacrilego ok hai detto una serie di cose mi soffermerei sulla parola apparizione la parola apparizione è una parola molto bella è una parola molto bella e io credo che chiunque abbia dipinto anche poco nella propria vita sappia esattamente conosca quel momento quel momento magico in cui qualche cosa si organizza e appare qualche cosa che noi a cui noi riusciamo non per forza a dare un nome ma che noi riconosciamo come come qualcosa di significativo e mi tengo vago proprio perché non è necessario che sia nemmeno un'immagine un'immagine che raffigura qualcosa che noi possiamo nominare con le parole no questo avviene per i bambini i bambini quando iniziano a disegnare e credo che la parte di questa che siamo un piacere istintivo veramente potentissimo nei bambini probabilmente ha a che fare con quel momento lì con quel momento dell'apparizione in ogni caso da adulti dipingendo c'è un momento in cui qualche cosa che prima era solamente materia diventa qualcosa di più quindi apparizione che ovviamente ha un significato molto specifico se si entra nel lessico religioso o ancora di più confessionale ma che io terrei invece nella sua accezione più generale e sicuramente parte dei tentativi che ho fatto in qualche modo ho dovuto ho dovuto superare io stesso tutta una serie di freni di fastidi di tabù immaginatevi cioè dipingere oggi l'immagine di una Madonna con bambino non è la cosa più facile non è la cosa più scontata nell'ambito della produzione dell'arte contemporanea per tutta una serie di motivi che però lasciamo perdere e sicuramente aveva a che fare con anche con questa dimensione voler provare a toccare più profondamente e questa volta facendo un riferimento a una storia molto una storia fondamentale della nostra civiltà che è quella religiosa e quindi con le sue con i suoi trofi con i suoi luoghi con i suoi personaggi con le sue narrazioni e ho detto perché no proviamo a vedere cosa succede però anche in questo caso vedete il quadro è abbastanza piccolo ed è un quadro io ho segnato 2019 credo di averlo iniziato nel 2017 me lo sono portato dietro in continuazione l'ho ridipinto l'ho ricancellato l'ho rimesso l'ho rifatto e alla fine ho trovato questa conformazione che mi soddisfaceva abbastanza ha avuto bisogno di tanti passaggi e anche qui vedete c'è tutta una serie probabilmente si in fotografia così si vede poco ma quelle macchioline che vedete esterne all'ovale che di nuovo vanno a formare uno spazio di transizione tra una rappresentazione a cui possiamo dare un nome e qualcos'altro che noi possiamo solo chiamare tela e quadro e che per me quando li ho fatti a un certo punto li ho riconosciuti come delle possibili per quanto grezze e groffe insomma delle possibili gemme no? come ancora nel fino al 600 insomma o 700 tante volte si adornavano immagini sacre di nuovo riportava in una dimensione ambigua di apparizione e di scomparsa quello che dovrebbe essere il nucleo il cuore di questo quadro se uno deve descrivere in 5 secondi a qualcuno il quadro che ha appena visto sicuramente uno inizia dicendo è un rettangolo marrone con delle macchie inizia dicendo una madonna col bambino e poi se ha tempo va a spiegarlo in realtà ecco dal mio punto di vista questa non sarebbe non sarebbe esistito non avrebbe potuto funzionare come quadro senza tutto quel lavoro interno ed esterno all'ovale che ha creato questa questa da sì che per me è un equilibrio insomma un equilibrio tra direzioni opposte in cui il quadro mi sembra portare insomma risucchiare a un interno rimandare a un esterno gli stessi sguardi di queste persone che ci sono e non ci sono ci sono insomma ci sono tanti tanti elementi per me molto complesso che hanno dovuto trovare una specie di quadratura tutti assieme il tema della dimensione religiosa che mi è stato suggerito da Enrico io l'ho preso quindi vediamo qualche altra immagine che ho fatto in questi anni come vedete sono sempre piuttosto diverse le une dalle altre questo invece è un quadro molto grande rispetto a quello di prima sono due metri per 160 e purtroppo quindi visto così miniatura perde più dell'altro qui anche qui mi sembrava un luogo religioso più o meno intoccabile però la figura di Francesco dico una banalità perché avrà affascinato qualche altro milione di persone oltre che me però insomma mi ha sempre affascinato e ho sempre trovato anche uno strano dei momenti diciamo al limite tra l'ironico il ridicolo e il laureo non so come dire e il sacro in senso pieno forse il sacro è sempre un po' ridicolo perché trascende completamente le categorie diciamo della normalità e quindi è abbastanza normale che che questo avvenga in ogni caso in questo caso io ho fatto l'innesco è stato un disegno che ho tenuto la cui riproduzione ho tenuto tanto tempo nello studio fatto da una persona anziana e se non racconto tutta la storia che aveva già inventato parte di questa composizione in una maniera molto naif molto curiosa e mi è sembrato che quello potesse essere la via diciamo anche per me per poter toccare un terreno muovermi su un terreno così scivoloso così difficile e qui c'è un'altra un'altra dimensione a questo punto per fortuna che verrebbe quasi da chiamare aniconica in realtà siamo sempre dentro al paradosso perché qua siamo di fronte a un quadro come gli altri e siamo di fronte a un'immagine come gli altri e siamo di fronte anche a una rappresentazione come gli altri quindi in realtà non è più nemmeno aniconico però apparentemente questo gruppo di lavori che ho fatto dal 2016 e poco tempo fa e che ho chiamato Veronica ovviamente riferendomi al telo della Veronica quindi al telo su cui si sarebbe stampigliata diciamo l'immagine del volto di Cristo durante la Via Crucis ci sono arrivato ci sono arrivato per vari passaggi all'inizio in maniera molto banale ho cominciato ho dedicato qualche mese a provare a costruire questa rappresentazione di un telo perché poi lavorando sempre su una tela la stoffa il telo è uno dei luoghi quasi tautologici per il pittore e quindi rappresentare una tela su una tela ha sempre qualcosa di affascinante ed è sempre stato fatto tra l'altro nella storia della pittura pensate a quanti panneggi lo studio di panneggi tra l'altro la rappresentazione della Veronica abbiamo un repertorio immenso di cui io conosco solo una piccola parte in particolare in 5-600 tante volte si vedono delle scene in cui ci sono tanti personaggi in cui dopo a un certo punto c'è una donna che sostiene un velo su cui si vede si vedono i lineamenti del Cristo in realtà il quadro che mi ha più forse spinto a iniziare questa serie è un quadro che ho visto di Zurbaran di questo pittore spagnolo seicentesco che vidi in una mostra a Palazzo dei Diamanti e in cui invece a differenza dell'iconografia classica che raccontava una scena una rappresentazione si limita alla tela al velo della Veronica e ovviamente però con la figura del Cristo e con un mucchio di pieghe simulate in maniera molto raffinata e dettagliata io ho dovuto togliere 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 fino a rendermi conto che forse era già tanto se io riuscivo a rendere una in maniera diciamo il meno descrittiva possibile ma comunque sufficientemente descrittiva perché sembrasse un telo e chiamarlo ecco forse una cosa che vale la pena dire poi dimmi tu Enrico secondo me abbiamo già sforato sul tempo non lo so l'ultima cosa che dico su questo è che mi viene da dire che un elemento per me molto importante può essere non è che lo è sempre può essere il titolo ci riferiamo sempre alla dimensione visiva ma il titolo è per questo se poi ti dico tanto anche le didascalie che ci danno un'idea sia sulla ricostruzione di un'immagine fotografica di un quadro ma anche se c'è un titolo ci danno delle indicazioni di qualche tipo ecco in questo caso senza il titolo capite bene che questa serie avrebbe avuto un effetto completamente diverso chiamandola Veronica ogni singolo quadro io obbligo in qualche modo lo spettatore a fare i conti con questo termine specifico ma abbastanza conosciuto e lo metto nelle condizioni di non poter guardare il quadro se non attraverso la lente anche di questo titolo esattamente come la scelta di un colore uno si può guardare questo quadro e immaginarsi questo telo di qualunque colore ma è uno sforzo di immaginazione ulteriore io sto obbligando a vedere una diciamo più o meno rappresentazione più o meno grezza volutamente di un telo bianco ecco il titolo questo è una cosa forse per questo tipo di conferenza credo sia utile sottolinearlo io non ci avevo pensato quindi sto completamente che adesso improvvisando però il titolo credo che sia un elemento fondamentale per chi come me lavora anche su un piano come è stato detto più volte concettuale rispetto alla pittura concettuale nel senso non dell'essico filosofico ma dell'essico dell'arte contemporanea e cioè un dispositivo e qui arriviamo anche al titolo il quadro diventa anche un dispositivo che ci obbliga a fare i conti con un po' delle cose che abbiamo detto finora quindi sulla collocazione dell'osservatore sul corpo dell'osservatore sulla distanza sulla profondità sulla ecco questa dimensione deittica diciamo del collocare quello che si vede e se stessi rispetto a un contesto è una dimensione che a me interessa tantissimo anzi più vado avanti nel tempo più mi interessa per questo che tante immagini anche molto accattivanti hanno un effetto hanno poca presa su di me anche di altri quadri di altri colleghi che magari di primo acchito mi colpiscono ma poi non hanno molta presa proprio perché è meno presente questa dimensione proprio deittica di collocazione rispetto a un contesto a proposito di questo della valenza del titolo e anche di un tuo approccio concettuale riguardo alla pittura se ecco mi volevi dire qualcosa su questo quadro che ho citato io ma se vuoi possiamo anche scorrere potremmo terminare prima di avviare un po' di discussione insomma spero che ci sia tanto da dire perché c'è tornerei su queste opere salto mi dispiace ma le natura è morte altrimenti ci sarebbe da parlare altri 5-6 ore ecco arriviamo qui che sono opere che a me colpiscono molto per una ragione che ecco non so se ricordi quando abbiamo ne abbiamo discusso la prima volta di questi quadri come questi ne ho fatti pochi perché per certi versi mi spingono troppo su un livello troppo concettuale della pratica pittorica ma che al tempo stesso tu hai un po' rivelato poco fa parlando della dimensione del titolo nella prevalenza rilevante nell'opera in sé anche perché questi sono quadri che innanzitutto tu hai parlato di verifica prima e questi hanno molto del concetto di verifica del supporto dal mio punto di vista quanto meno e ecco qui non vedo il titolo ma qui invece c'è e avevamo anche ci sono anche altre opere di questa serie ma questa va più che bene noi abbiamo un telaio con presunitamente una tela innestata dalla parte opposta che non vediamo che ci dà le spalle e che però è dipinto sul verso in maniera ovviamente segnato o più che dipinto comunque in maniera irreferenziale ma c'è un titolo che invece dà una descrizione molto chiara di quello che starebbe accadendo ma starebbe accadendo forse sul lato che non vediamo allora pensiamo forse all'immagine in questo caso che vediamo perché c'è un elemento visibile che possiamo chiamare immagine all'immagine come metafora innesco non in questo caso solamente della pratica pittorica ma della pratica immaginativa dello spettatore e questo è il punto secondo me arriviamo siamo partiti a parlare di pura materialità pittorica e chiudiamo forse grazie alla capacità della pittura come contesto in questo caso di agire sullo spettatore separato di agency in un certo modo nelle scorse puntate di questo seminario non ovviamente nel senso antropologico ma di agency metaforica in questo caso un'immagine che dovrebbe esistere e che cerca in qualche modo di materializzarsi nella mente di chi non la guarda ma che sa che è nascosta questo secondo me è un secondo livello di lettura di queste opere che non so se sei d'accordo ma si lega al problema del titolo e al problema del pensare alla pittura concettualmente come prima hai ben delineato grazie beh sì hai detto praticamente tutto Enrico io aggiungo questo per chi non avesse capito anche se tu l'hai detto lo ripeto il quadro che chi non l'ha mai visto dal vivo non è tenuto a leggere questa fotografia bene questo è un quadro dipinto tutto quello che vedete è dipinto quindi non c'è un telaio vero ma è dipinto anzi dipinto in maniera anche abbastanza grafica e stupida se volete quando uno ci va vicino lo vede la campitura è abbastanza piatta ci ho impiegato anche tanto tempo a capire quale livello di chiamiamolo realismo giusto per intenderci a che punto di realismo fermarmi e qual era il punto invece che mi interessava sì qui sicuramente il limite un po' per me quando ho dipinto questo quadro quando sono arrivato ad aver dipinto il telaio con la sua ombra con la tela che mi rimetti la visione di insieme ecco con la tela che sembra rivoltata con le graffette dietro e tutto il resto anche se fatto con pochi segni ero insoddisfatto e mi ricordo esattamente quel momento un po' di giorni che ci stavo lavorando ero abbastanza insoddisfatto perché alla fine mi sono detto non ho prodotto altro che una stupida immagine un po' di tronclo insomma siamo sempre da capo spesso io capito in questo momento c'è una fase diciamo di down in cui dico non è altro che una l'ennesima idiozia l'ennesima immagine di cui non me ne faccio nulla non mi importa anzi non c'è nulla di più stupido che un tronclo però sentivo che c'era qualche cosa di potente e lì c'è voluto il momento del titolo io sapevo quando è iniziato questo grande quadro che è un quadro di più di tre metri per più di due metri di altezza che la mia idea era di poter realizzare finalmente il grande quadro di storia come si chiamavano fino all'ottocento in cui si rappresentavano battaglie si rappresentavano momenti epici drammatici eroici appunto spesso legato a delle a delle guerre delle battaglie e che dal mio punto di vista non è più possibile fare a un pittore da parecchi decenni forse Guernica è stato è stato l'ultimo tentativo diciamo riuscitissimo e diciamo geniale nell'aver fatto dato veramente l'ultimo colpo a un genere che era passato di mano semplicemente ai fotografi ai cineasti ai documentaristi insomma sono quelli che fanno i grandi quadri di storia nel novecento e ancora oggi salvo che a un certo punto io questo lutto del pittore del non poter rappresentare i grandi quadri di storia ma più in generale una buona parte della realtà che abbiamo davanti agli occhi è come se avessi rivoltato si usa di ho rivoltato la frittata in ogni caso quando lo stavo guardando dopo averci messo il titolo come se fosse stato il titolo scritto dietro a una tela beh ho preso in mano una bomboletta e ho camminato quello è una diciamo un segno a zigzag ad altezza delle mie spalle mentre cammino c'erano proprio camminato facendo il gesto che mi ricordavo facevano durante certe manifestazioni quando partecipa alle manifestazioni un po' più di una ventina di anni fa e e quindi magari qualcuno con l'idea semplicemente di sfriggiare qualcosa magari su una vetrina di una banca passava quindi un segno che non ha nessuna intenzione figurativa in sé e mi è sembrata la cosa più normale da fare in quel momento la cosa più naturale a quel punto cosa è successo l'ho riguardato e mi sono detto adesso il quadro è diventato un quadro ecco l'apparizione c'era tutto già c'era già tutto il dispositivo c'era apparentemente ma per me non funzionava come quadro cioè mancava quel suo essere qui era tutto di là era tutto giocato per essere di là io avevo bisogno di nuovo di qui verso di me no di nuovo siamo in quel gioco e questo colpo di spray che adesso ho visto così in piccolo è meno significativo ma quando uno c'è fisicamente vicino perché ripeto è un quadro più alto di una persona e quindi uno può camminare seguendo il stesso percorso che fatto io d'angolo beh l'effetto è molto diverso è molto più aggressivo è molto più d'impatto e il gioco sul qua e là il gioco su anche il dolore o quello che può essere la tragedia di quello che noi proiettiamo su un ipotetico al di là della tela che però ovviamente non esiste perché io quando l'ho esposto a una fiera alla fiera di Tiorino questo quadro quello che torniamo al potere delle immagini della scorsa conferenza la cosa incredibile è che ci sono passati davanti come in una fiera centinaia e centinaia di persone e vi assicuro io a volte rimanevo un po' discosta a guardare le reazioni nonostante non sia un perfetto trompolore assolutamente si vede benissimo che dipinto anzi abbastanza grafico ma la cosa incredibile è che almeno una persona ogni tre si avvicinava con fare furtivo e dava una sbirciatina al di là per vedere cosa c'era dietro cosa che in un quadro che rappresenta mettiamo che io qua avessi dipinto un paesaggio e l'avessi appoggiato per terra esattamente così nessuno se non un pittore che vuole andare a vedere che tipo di telaio ha usato ma nessuno si fermerebbe a dare un'occhiata dietro a cosa c'è invece in questo caso nonostante sia evidente che la superficie è dipinta il potere dell'immagine questa agency di cui parlavi è talmente forte che è come se si creasse una specie di cortocircuito nella nostra testa cioè io so che questa è una rappresentazione ma c'è una parte di me che vuole vedere siccome è una rappresentazione di se stessa dell'oggetto quadro beh io ho bisogno di vedere se questo è un reto allora vediamo sul reto del reto cosa c'è va bene io lascerei spazio veramente perché direi che le cose da aggiungere su cui discutere ce ne sono veramente tante quindi non non perdo un secondo di più e direi che chiunque abbia voglia di innescare un po' di dibattito si può fare avanti telecamera o solo microfono come come preferisce sarò forse un po' stronzo un po' cattivo ora perché mi piace puntualizzare le cose cose che ho imparato poi dal professore e poi col tempo insomma sono domande perché sono questioni molto spinose che uno purtroppo incappa con queste e per fortuna e le manda avanti tutti i giorni nello studio e anche insomma qualsiasi momento della giornata allora si è parlato del dispositivo e il paradosso del dispositivo pittura e una cosa che però non si è detta che è già questa diciamo sconvolgente il fatto che si dice qualcosa nel senso che no l'uomo per dire quando parlavate all'inizio faccio una parentesi piccola si parlava del del fatto che il paradosso dell'immagine che è espressa nel dipinto per cui non è più immagine e via dicendo quindi c'è questo paradosso mi è venuto in mente il desosturo ovviamente nel fatto arbitrario nell'arbitrarietà del fatto linguistico in cui sostanzialmente dice il pensiero nella mente è una massa morfa non esisterebbe se non ci fosse la parola cioè la parola che è un'estensione in qualche modo è un'estensione senza in qualche modo è quella che veicola il pensiero che gli dà una forma senza di esso non vi sarebbe la parola allo stesso tempo l'immagine desiderio dell'impossibilità di vedere la vista che non si potrà mai vedere quindi altro paradosso è vincolata dal dispositivo pittura ok molto bello molto bello e prima invece Enrico ha detto un po' quello che ovviamente i teorici ma anche i pittori un po' un po' più scrupolosi spesso pensano cioè è bella la pittura è bello il dispositivo ragionare concettualmente sul lavoro perché si può lavorare sul concetto d'immagine e via dicendo noi eravamo a metà conferenza e questo è bello è affascinante per noi però penso che è meno affascinante tra virgolette o è meno raggiungibile a tutti e io invece credo che c'è qualcosa di più che forse è una mia allucinazione più che una mia visione però è una cosa che credo di aver visto nella pittura e in qualche modo diciamo anche sviluppato concettualmente ma ora mi fermo solo a diciamo esprimerla cioè il fatto che il dominio pittura e il cui Bertolo insomma me l'ha insegnato in qualche modo si potrebbe dire che il dominio d'immagine più esteso più estendibile cioè non fa in tempo arrivare la grafica 3D che è già nella pittura in qualche modo perché se parlassimo di linguistica di lingua parleremo di fonema potremmo parlare di grafo nella pittura beh nel grafo nella semplicità del gesto dell'estensione mano e dito sporco se vogliamo e superficie beh lì abbiamo già le basi con cui possiamo diciamo decifrare o riportare dal codice binario al bue appunto alla grafica 3D cioè non fa una cosa non fa in tempo a nascere una nuova ipotesi di immagine diciamo con qualsiasi tipo di dispositivo che già la pittura la fagocita io direi la pittura blob no? che fagocita tutto al suo interno e quindi ecco niente era questa riflessione che mi veniva in mente che mi sconvolge anche però perché vedo in qualche modo questo destino diciamo della pittura che che è quello di fare a sé tutto quello che è l'immagine di appunto diciamo la deriva dove vanno tutti i significanti visivi a naufragare ecco questo questa era l'idea che mi veniva in mente mentre parlavate vogliamo rispondere uno a uno oppure aspettiamo che altri facciano domande come preferisce io vorrei chiedere a Carlos se pensa che sia una deriva negativa quella dell'immagine come approdo di ogni significante pittorico in questo caso visivo se vogliamo oppure sia una deriva per in qualche modo positiva non so come altro definirlo guarda ti rispondo subito non c'è né positivo né negativo ti posso rispondere così quando ho iniziato a fare quello che faccio in pittura era una cosa che non riuscivo a giustificarla perché siamo nel 2020 e uno diceva la pittura col tempo questa cosa che ho capito a me mi sconvolge e basta non c'è né un positivo né un negativo ma posso dire che quando sentivo parlare di pittura come lingua morta era una cosa che mi faceva soffrire e poi ho capito ma no è lingua morta e quindi è vivissima cioè il suo essere storico in qualche modo è quello che permette di essere sondabile diciamo cioè proprio perché è lì perché è una storia lunga e ha la possibilità di essere vista in tutti i modi e e diciamo di essere ovviamente riportata in auge e se non altro appunto è portata in qualche modo a essere diciamo il dominio più esteso in cui la fotografia ci rientra insomma è questo il concetto grazie ma io non aggiungo molto non mi sembra una domanda mi sembra una considerazione da quello che ho capito sì io concordo sul fatto che la pittura è secondo me un segno di grande vitalità se ce ne fosse bisogno di questo medium dato per morto più volte sicuramente una delle sue capacità di resistenza e insita proprio nella in questa plasticità apparentemente infinita che se vuoi ne fa certo una specie di discarica ne fa una specie di discarica in cui vanno a finire o a confluire modalità di esistenza delle immagini di costruzione delle immagini negli ultimi anni ovviamente mediate tantissimo da tecnologie o da dispositivi quindi software e hardware dispositivi che creano nuovi a loro volta però dei nuovi cliché e secondo me la questione non è tanto il fatto che come dei torrenti vadano a finire in un fiume della pittura ovviamente questo è dal punto di vista di un pittore visto da un sociologo ovviamente vedrebbe la pittura come un piccolo rigagnolo nel mare infinito invece oggi della comunicazione visiva sui device ma adesso mi interessa invece dal punto di vista del pittore questi confluiscono nel nel fiume della pittura il punto è capire se poi la dimensione della pittura quindi del fare dei quadri riesca a restituire consapevolezza di queste quindi riesca a riportare il cliché a quello che sono cioè di cliché e quindi riesca ogni volta ogni nuova opera che funziona riesca a ripulirci un pochino gli occhi come ogni poesia riesce un pochino a ripulirci l'utilizzo che noi facciamo la comprensione delle parole anche delle parole più semplici no? uno legge una poesia che trova la parola tavolo e dopo averla letta in quella poesia la parola che fino a quel momento utilizzava in maniera banalizzata dall'uso di migliaia e migliaia e migliori di ricorrenze riacquista una vitalità una freschezza nuova ecco questo è quello che dovrebbe fare ogni opera d'arte in generale e dato che stiamo parlando ci stiamo limitando la pittura ai quadri secondo me la differenza tra i cattivi quadri di tanti giovani pittori oggi che utilizzano tecnologie simulazioni Photoshop e così via e poi trasferiscono semplicemente sul quadro i montaggi che fanno questo giusto per fare un esempio più pratico no Carlos che hanno fatto a computer ecco se non succede qualche cosa nel momento in cui ci si confronta con la pratica stessa della pittura quindi se uno usa i pennelli e la tela avere in mano dei pennelli avere davanti a sé una tela un quadro di una certa dimensione se non succede qualcosa lì non è altro che una trasposizione più in là di alcuni cliché visivi ecco questo credo sia la cosa fondamentale bene aspettiamo un attimo questa questione della distanza è complicata nella sì 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 capisco bene ma io intanto mentre qualcuno magari vuole vuole fare qualche domanda o qualche commento non c'è bisogno no aggiungo questo questo mi viene sempre da aggiungerlo in queste conferenze ne avevo accennato all'inizio ho sempre ne avevo già detto anche Enrico ho sempre un po' paura che discussioni di questo tipo poi no poi adesso Carlo si è attirato dentro la linguistica sassure eccetera chiunque e qui ci sono molti studenti o giovani pittori o giovani artisti non importa se siano pittori sanno molto bene che in realtà la questione è molto molto più non tanto più complicata ma è ha un suo baricentro che sta altrove no dipinge un quadro come fare una performance o fare un video prima di tutto a monte di tutto sta una necessità sta una necessità che tendenzialmente non è non è non è raccontabile da parte dello stesso autore anche qui scusate anche qui il cliché vuole che no che uno abbia dentro di sé un sentimento e fa l'opera perché così esprime il sentimento ecco non è così io posso avere voglia di patatine fritte e spello delle patate per preparare patatine fritte ma non funziona così con le opere quindi quello mi viene da da sottolineare questo fatto perché certe volte dopo si finisce a parlare su un piano molto astratto fondamentale non tolgo però è ovvio che ci sarebbero mille questioni se volete più più sporche più difficili da cogliere più di più meno che si diciamo meno disponibili meno disponibili al discorso ecco questo lo dobbiamo sempre tenere in mente quando si fanno questi discorsi è per fare una domanda secca posso a riguardo dell'esprimere dell'esprimere se stessi no? perché è una cosa che viene spesso detta no? da qualcuno che si approccia alla pittura no? voglio esprimere me stesso no? ecco ovviamente è una cosa molto opinabile insomma lei cosa cosa direbbe a riguardo? io direi a riguardo che il compito è molto difficile è quello di cercare di cancellare se stessi quello di cancellare traccia della di quello che noi crediamo di essere dato che non c'è un se stessi come dire tiro fuori il passaporto ecco questo è il me stesso no? non ce l'abbiamo in tasca però noi continuamente crediamo di essere qualche cosa questo credere di essere qualche cosa ci porta a sua volta a pensare di autora pensate il problema dell'autorapresentazione oggi sui social media e su tutti i drammi della drammi sia estetici che anche umani questo continuo questa ossessione dell'autorapresentazione è come se uno potesse pensare con una foto facendo vedere la spallina del reggiseno che questa è più se stessa di un'altra immagine di una ragazza piuttosto che di un ragazzo che si fa vedere con un tatuaggio in un modo o nell'altro ecco secondo me l'artista più di tutti gli altri è un essere umano come tutti gli altri ovviamente ma più di tutti gli altri proprio perché quello è il suo mestiere dovrebbe cercare di annullare questo questo apparente se stesso è ovvio che è mosso chi lavora chi va in studio è mosso da sentimenti legati a quel giorno a quell'ora è legato alla propria storia alle immagini che ha in testa a migliaia di fattori che soltanto lui o lei ha in quel dato mix ma il suo obiettivo non è quello di riportarlo dal mio punto di vista le opere che continuano a parlarci non mi raccontano il me stesso Mantegna il me stesso Botticelli il me stesso Vermeer il me stesso Goya è qualcosa di molto più molto più vasto cioè una specie di raggiungimento di una comunanza di qualche cosa piuttosto che una soggettività c'è una domanda in chat di Anna Laura ciao Anna Laura allora non fa in tempo a nasce una qualche forma che dipinta la giafagocità vorrei aggiungere quanto detto dal seriologo Paolo Fabri in una conferenza l'anno scorso cioè che l'arte ha una memoria futura la memoria di un testo poetico è una memoria a venire spesso interessati a comprendere da dove l'arte provenga non ci soffermiamo a prendere in analisi dove l'arte sia diretta sì io non la conoscevo mi sembra molto bella come definizione paradossale ovviamente memoria futura e mi è meno chiaro prendere in analisi dove l'arte sia diretta cosa voglia dire questa frase ecco questo non mi è chiaro perché perché abbiamo sempre una conoscenza ex post delle cose quindi sappiamo dove l'arte doveva andare dopo che è andata lì quindi non so bene cosa significhi però come definizione è quel spostare un attimo l'accento su sull'avanti invece sul dietro mi sembra mi sembra interessante sì e vorrei farmi una domanda tornando alla questione del vai 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 no Carlos finisci se sei da concludere il discorso no semplicemente dico se si parte dall'assunto che un autore lavora tanti e non sui significati il discorso emotivo e diciamo il messaggio emozionale psicologico se ne va a gambe elevate assieme al al personale al soggetto ma sì io non credo che si possa separare non credo che si possano separare queste cose non credo che si possa tagliare come in una in una sala operatoria secondo delle definizioni utilissime per certe analisi ma in questo caso secondo me non so io non riesco a seguire poi tutta la la questione la dimensione visiva è talmente lontana da quella certo intersecata ma comunque lontana da quella linguistica quindi utilizzare termini come significato significante secondo me ci porta in un ingroviglio che adesso lascerei posso intervenire? sì chi è? salve sono Rosa buonasera posso fare un intervento? possiamo vedere anche la tua faccia così sembra un po' più umano sì 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 certo prima lo spenta per non caricare molto eccomi salve io penso che abbasserò molto il tono della conversazione volevo solo fare un commento perché si sono dette tante cose riguardo diciamo al dispositivo che vediamo a un quadro che vediamo attraverso un monitor o una foto oppure appunto un'immagine stampata e giusto un commento io posso darti del tu? prego prego Luca sì sì non conoscevo il tuo lavoro e l'ho visto per la prima volta quest'anno dal vivo in una mostra a Bologna durante l'arte fiera e volevo dire che non conoscendo affatto questo lavoro ho provato una grandissima emozione vedendo questi lavori e ho capito adesso ascoltando la questione della distanza anche da quest'opera e appunto c'è stata una connesione perché è come se si riconosce qualcosa è come se quel pensiero cioè io ho visto quello del fiore grande il fiore di Anna forse sì sì è come se appunto il quadro naturalmente racconta anche una relazione fisica credo e quindi ecco visto quello e l'altro che ora non ricordo come si chiama ma l'abbiamo visto prima appunto c'è stato una comprensione in base anche alla distanza da quel quadro che poi sono andata a vedere da vicino e appunto era un'altra cosa e quindi non lo so volevo solo ringraziare perché è stato molto bello tutto quello che ha ascoltato ed ha risvegliato dei pensieri che avevo e che ho da anni e quindi a volte quando vedi un'opera che ha saputo esprimerli è come dare voce a dei pensieri quindi non sono molto brava a fare filosofia ad alto livello però ecco questo è quello che volevo dire un commento positivo che è stato interessante grazie grazie mille ok grazie a voi tutti dei messaggi per iscritto c'è chi vuole intervenire oralmente perché lo so quindi insomma non possiamo tenere il professor Bertolo qua per altre quattro ore anche se forse per iscritto è un po' più difficile perché se uno non capisce una cosa poi non si sa bene come allora fammi vedere dove siamo arrivati da Lucas Memmola dal momento che i pittori hanno perso il monopoli dell'immagine a causa della fotografia cosa può la pittura ridare a un'immagine immagino ci sia un punto di domanda lì io spero parzialmente di avere risposto in molte delle cose che ho detto proprio perché la pittura dal mio punto di vista è il luogo in cui diventa più esplicito che non in altri dispositivi chiamiamole così la natura tutt'altro che lineare e semplice di ciò che noi chiamiamo immagine e l'accento posto sulla fisicità dell'esistenza di queste immagini che un quadro racconta molto meglio di una fotografia o di uno schermo di un telefonino secondo me è già una risposta al cosa può oggi la pittura si vorrei vorrei parlare io Valentina buongiorno salve buonasera abbiamo visto lavori mi sente? si molto in ritardo vai scusate connessione del massimo non molto vecchi però non sono comunque molto recenti ci potrebbe parlare o comunque introdurre anche quello che è adesso invece la sua pratica dell'editura comunque quello su cui sta lavorando se si può sapere perché sarei molto curiosa non posso fare spoiler no scherzo in realtà ci sono un paio di quadri per esempio quei terzi paesaggio che sono stati fatti vedere e sono di un anno fa insomma adesso non non ho non ho messo qua in questa presentazione lavori recentissimi cioè recentissimi infatti nell'ultimo anno semplicemente perché con Enrico avevamo scelto alcune categorie ma non per alto altri motivi anche perché è un anno che stiamo dietro queste cose siamo partiti un anno fa quindi erano molto alcuni erano molto recenti quando l'abbiamo iniziato quindi Valentina mi sa che adesso ci dovrei andare insomma non è il momento non ce la faccio fisicamente bene io ero solo curiosa volevo fare questa domanda grazie no innanzitutto mi vorrei riattaccare a quello che diceva Carlos riguardo alla logica linguistica facendo un piccolo appunto sottolineando il fatto che comunque il discorso semiotipo che poi di approccio al testo visivo che poi quello che tra gli approcci sembra essere più vicino alla logica linguistica in realtà è andato molto oltre il discorso del binomio significato significante quindi c'era prima benvenisse che notava quelle che erano le incompatibilità tra un discorso linguistico e visivo poi si è andato oltre però non mi addentrerò in questo ambito volevo ritornando alla tua pratica pittorica chiederti te lo chiedo perché probabilmente ci avrai riflettuto qual è lo statuto della cornice nei tuoi quadri anche nella sua assenza come abbiamo visto determinate almeno le opere che abbiamo visto io avevo anche la preview di tutto il powerpoint quindi ho avuto modo di notare che non c'erano ad esempio non c'era un quadro che mi ha colpito molto un quadro un'opera che mi ha colpito molto durante la personale che ho visto a SpazioA l'anno scorso che era un senza titolo a Deleuze se non sbaglio dove c'era questa sovrapposizione di cornici allora proprio nell'assenza della cornice a livello diciamo a livello figurativo pittorico che che importanza assume nella tua riflessione artistica la cornice anche come soglia abbiamo parlato del corpo dell'opera la cornice funge è stato ormai dimostrato il discorso artistico lo studio artistico si è sviluppato abbastanza in questo la cornice funge da soglia da passaggio e quindi tende anche ad identificare quello che è un corpo dell'opera stessa allora nei tuoi quadri mancando appunto la cornice e poi essendo ripresa in altre opere come valore analitico non uso la parola analitica a caso ma mi ricolleo un discorso che è quello di Filiberto Menno in particolare che statuto assume all'interno della tua pratica ma la domanda è per me particolarmente appetitosa temo che richiederebbe un discorso abbastanza lungo allora intanto provo magari a mettere in condivisione vediamo se non risuccedono cose tremende come prima e far vedere il quadro che hai citato lo riuscite a vedere sì sì si lo vediamo allora provo a farlo un attimo più grande allora questo qua chiamarlo quadro è un po' strano insomma questa cosa qui se vedete c'è un foglio su cui c'è scritto il pittore è un macellaio certo ma egli sta nella sua macelleria come in una chiesa G. Deleuze ed è scritto con una scrittura incerta e poi nel suo insieme è questa cosa qua ed è più o meno 60 per 50 cm e sì questo è un meccanismo è una è una specie di quadro fatto di continuo continuo cornici di continui retro per la precisione sembrerebbe quasi il retro almeno così l'ho costruito piano piano è cresciuto ma lasciarlo perdere questo è stato un po' l'innesco cercherò di essere bravissimo la cornice è un dispositivo a sua volta è un dispositivo a sua volta per me è interessantissimo molto 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 affascinante ed è affascinante il fatto che abbia avuto una vita abbastanza lunga almeno in termini di secoli poi interrotta bruscamente in occidente più o meno nei primi decenni del novecento e è diventata quasi tabù nell'arte contemporanea nella pittura contemporanea fino ad oggi fino ad oggi ci sono poche eccezioni ci sono che ne so io mi colpirono anni fa quando vidi una mostra di Julian Schnabel con questi grandissimi cornici quadroni con delle grandissimi cornici la cornice serviva a separare un mondo rappresentato dal mondo tra virgolette reale fondamentalmente per rendere più evidente questo ritaglio di una realtà dentro un'altra realtà di una rappresentazione dentro una realtà in modo che non si confondessero queste cose la cornice è anche molto alto è anche luogo spesso per la costruzione o l'aggiunta di piccole storie pensate delle cornici intersiate con delle figure la cornice è anche il passaggio graduale dal punto di vista banalmente visivo da un rettangolo particolarmente significativo che è quello del quadro molto denso diciamo sia di informazione che di di senso più in generale ha una a un esterno meno denso di significato come può essere una parete di una stanza e visivamente la cornice fa l'effetto che può fare un cornicione su un'architettura o una modanatura su un armadio è un passaggio graduale tra un ambiente e l'altro ecco tutte queste cose insieme hanno fatto della cornice un dispositivo che è andato in maniera quasi scontata insieme ai quadri al punto che appunto Cezanne si vergognava di dover mostrare dei suoi quadri senza cornici quando qualcuno veniva a vederli siamo ancora in un'epoca in cui il quadro diventa pubblico diventa oggetto d'arte nel momento in cui ha la sua cornice ed è in un luogo pubblico ecco poi è cambiato tutto è cambiato tutto per tanti motivi e sarebbe interessante fare un corso solo sulla sulla storia della cornice e io ne so anche abbastanza poco e non mi sono mai occupato di questo direttamente però ci ho ragionato su tantissime invece in termini molto pragmatici lavorandoci io tantissime volte ho sperato negli ultimi diciamo dieci anni anche meno tante volte ho avuto la la tentazione la volontà di mettere o di aggiungere una cornice a un quadro che stavo facendo e quasi sempre a un certo punto ho desistito perché è molto difficile quasi come in tutt'altro in tutt'altra situazione con tutt'altre caratteristiche ma insomma è un terreno delicato come dire andare a mettere le mani in ambiente sacro insomma sono cose che per l'arte contemporanea sono diventati dei tabù ed è difficile effettivamente tornarci dentro senza che immediatamente non venga classificato il quadro con cornice come oggetto fondamentalmente kitsch cioè un oggetto sì che è pittura in senso fenomenologico cioè un quadro dipinto ma che si auto esclude dal gioco culturale serio questo è stato il diciamo il grande la grande condanna caduta sulla cornice diciamo dagli anni 30 a oggi chi mette fa una mostra e ci mette le sue cornicette è un pittore della domenica fondamentalmente cioè ha bisogno che la cornice aggiunga quello che lui non è in grado di fare col suo solo quadro oltre tutte le implicazioni delle pitture che diventa sempre più il quadro che diventa un luogo diciamo di auto di auto riflessione di riflessione su se stesse quindi la cornice dà fastidio a tutto questo è un po' come se noi stessimo facendo un corso di anatomia e smettiamo di disegnare il corpo nudo in movimento fisso di un modello di una modella e lo vestiamo da pagliaccio poi ci possiamo mettere a copiarlo ma è chiaro che l'anatomia sembra essere nascosta da tutto questo surplus ecco diciamo che all'occhio di persone formate nel novecento e noi tuttora lo siamo la cornice sembra un'affettazione non necessaria al quadro anzi sembra un elemento che è distante ecco detto in grandissima sintesi io personalmente siccome la domanda era rivolta al mio lavoro questa antituzione l'ho avuta tante volte qualche rara in qualche raro caso sono uscite delle opere in cui la cornice è parte integrante quello che tu hai citato è uno di questi ma diciamo è il meno quadro di tutti il meno dipinto di tutti anzi non è dipinto quasi perché anche la parte dipinta non l'avevo dipinta io era una specie di doppio obiettore fatto dai miei due figli uno più grande una più piccola e ho unito alle due cose e quindi ho lavorato sulla cornice quindi era un po' più facile diciamo ne sono calata più facilmente in altri casi tra cui uno che ho finito recentemente in cui la cornice ha giocato un ruolo molto importante perché è andato a chiudere un lavoro che io sentivo ancora aperto non concluso e lì c'è evoluta proprio la dimensione fisica pesantezza di una cornice e così lo è stato in passato anche per altre quadre ultima cosa che aggiungo più di una volta scusate vedo un goccio d'acqua se no più di una volta la cornice ha lasciato una traccia all'interno della tela stessa non la cornice vera ma l'idea di cornice la dimensione l'atto dell'incorniciare del framing questo il posto si chiama frameworks quindi ci siamo dentro del mettere una cornice A cioè di dare focalizzare l'attenzione su beh questo molta della pittura contemporanea soprattutto direi astratta ha lavorato su sul perimetro ecco potremmo passare se volete una dimensione un po' più soft un po' più semplice invece che parlare di cornice sul perimetro del quadro come un luogo particolarmente sensibile della tela ma questo ci aprirebbe a altre visioni grazie sì che poi anche cioè il perimetro rientra come abbiamo visto nelle tue opere anche per il fatto che appunto ci sia quella soglia di passaggio che identificava Enrico con le macchie di colore che per usare un termine scientifico potrebbero essere una sorta di forma atomica del quadro se vogliamo poi forse può essere anche non accettata questa cosa in particolare dall'artista però a me richiama quell'aspetto dell'opera sì 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 beh io adesso non dovevo andare a cercare ma insomma poi abbiamo fatto tardissimo ci sono quadri in cui è più evidente l'attenzione al perimetro come beh se ci pensate la stessa la stessa gli stessi quadri che hanno a che fare è con il retro che io ho tematizzato beh alcuni di questi ne faccio vedere uno solo e poi se riesco ad aprirlo provo a condividere ma io è affaticato niente non riesco a vediamo qua se ce la faccio ultimo tentativo ok forse riuscite a vederlo vedete sì beh in questo caso il telaio è più semplice no il quadro è più piccolo e quindi il telaio a sua volta diventa cornice tanto è vero che i telaio venivano fatti dai corniciari cioè cornice e telaio sono un po' una specie di struttura simile dove l'uno però sta nascosto e l'altro invece è visibile anzi fa di tutto per essere visto però strutturalmente e soprattutto quando uno gira il quadro beh l'effetto del telaio quando è semplice così è proprio quello della cornice in questo caso poi ce l'ho dipinto sopra anche un foglio in questo caso è un foglio dipinto anche lo scoccino con su un'immagine però ecco anche qui vedete la dimensione del perimetro è molto importante quindi ma insomma ce ne sarebbero tanti altri io direi che grazie possiamo se non c'è più nessuno insomma siamo delle mani del relatore diciamo così siamo già abbiamo già sforato le sette orario canonico diciamo così convenzionalmente inteso come fine sono sette e un quarto se decide il relatore se ci sono un altro uno massimo una domanda in più insomma ma c'è una domanda nelle chat che non è stata vista vero beh vediamo sì allora da entrambe i laboratori artigiani il rischio la paura il brivido della vera che fare con trompe l'oeil di cui parlavi prima è qualcosa che condivido quando in qualità di spettatore mi ritrovo di fronte a un'opera piacerebbe se approfondissi un po' la questione cosa posso dire di molto breve dicevo all'inizio che il trompe l'oeil se volete è la forma più stupida che la pittura possa raggiungere e diciamo è il grado supremo di stupidità mi verrebbe da dire dell'immagine il fatto che tecnicamente possa richiedere un po' di sforzo un po' di abilità come spesso che crea spesso nel pubblico profano diciamo ammirazione non toglie nulla all'estrema stupidità questa stupidità può essere giocata in maniera rigiocata diciamo così in maniera maniera intelligente in maniera interessante oppure no il brivido diciamo della simulazione di uno spazio è accattivante accattivante perché reagiamo in maniera anche lì anche in parte fisica e crea sempre quell'effetto di parziale straniamento o di delusione di piccola frustrazione però è una frustrazione a cui ci sottoponiamo volentieri quindi ha correlato un momento di soddisfazione quindi una specie di doppio di doppio gioco quello dell'essere di fare esperienza di un'immagine illusoria tipicamente direi che la mia esperienza è stata in situazioni di dentro delle architetture no porte finte finestre simulate in maniera diciamo non molto artigiana molto artigianale basta andare in Liguria è pieno di case con cornicioni con le finte ombre e poi ci sono palazzi cose più elaborate dal mio punto di vista è uno dei diciamo delle frecce che ha nelle corde la pittura più che un pittore di nuovo si tratta di capire cosa ce ne facciamo di questa possibilità è una delle tante no una tela bianca è affascinante una tela completamente monocroma ha un fascino completamente diverso ma può essere non minore si giocata dipende dipende da come dal tipo di uso che si fa cioè come si riinscrive questo tipo di immagine all'interno di un nuovo meccanismo questo meccanismo per me molte volte passa da una dimensione anche se non è sempre evidente al pubblico una dimensione molto molto ironica cioè io attraverso quella stupidità e mi godo la mia stessa stupidità che significa fondamentalmente un orizzonte parziale di mancanza di senso nello stare al mondo grazie direi che siamo arrivati alla fine insomma anche se sarebbe bello andare avanti ma insomma non si può chiedere l'impensabile e siamo già tutti noi direi piuttosto grati per quello che è stato questo seminario quindi grazie ancora a tutti e tutti soprattutto grazie al relatore Luca Bertolo e lo dico forse anche presuntosamente ma penso che in un ciclo di incontri di seminario come quello che abbiamo che abbiamo fatto servisse un tipo di intervento come questo insomma siamo molto contenti quindi grazie ancora e l'appuntamento è se non sbaglio mi correggerete giovedì prossimo stessa ora con Giovanni Matteucci grazie a tutti grazie a voi e grazie a tutti quelli che sono intervenuti a seguire e a partecipare arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti